Suggerito da Etera, il velo di Annika Roberto Roversi Mi fermo un momento a guardare. Non correre, fermati. E guarda. Guarda con un solo colpo dell'occhio la formica vicino alla ruota dell'auto veloce che trascina ad agio, ad agio, un chicco di pane. E così cura paziente il suo inverno. Guarda, fermati, non correre. Tira il freno, alza il pedale, abbassa la serranda dell'inferno. Guarda nel campo fra il grano, lento e bianco, il fumo di un camino, con la vecchia casa vicino al grande noce. Non correre veloce, guarda ancora, almeno per un momento. Guarda il bambino che passa tenendo la madre per mano, il colore dei muri delle case, le nuvole in un cielo solitario e saggio, le ragazze che transitano in un raggio di sole, il volto con le vene di mille anni di una donna o di un uomo venuti come Ulisse dal mare. Fermati per un momento prima di andare. Ascoltiamo le grida d'amore o le grida d'aiuto. Il tempo trascinato nella polvere del mondo, se ti fermi e ascolti, non sarai mai perduto.